Ben ritrovati in diretta in nostra compagnia, adesso proviamo a rilanciare il Mediterraneo attraverso un buon attivismo civico di cui si fa portavoce Napoli, soprattutto in occasione di un evento importante, 16 dicembre presso l'NH Hotel di Napoli in collaborazione con tanti ospiti. Presentiamo Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, buongiorno. Ben ritrovati. Andrea Zacato, Marco Rimoldi, fondatori di Influgrammer, un progetto che scopriremo a breve e poi abbiamo anche Davide Galeone, accomodato al salotto di mattina 9. Ben trovati. Allora, un grande evento, il rilancio del nostro sud che passa attraverso l'attivismo civico. Sì, questo è un nuovo progetto che io ho lanciato a maggio e adesso facciamo questo evento a Napoli, è il terzo Open Day, una giornata. Il tema qual è? Si chiama Opera 2030, è già disponibile un sito dove si può vedere di che si tratta. Io ho coinvolto tutta una serie di realtà e quindi anche voi diventerete partner. Ho coinvolto ovviamente Change.org, la più grande piattaforma di petizioni al mondo, Fanpage che conoscete perché è una realtà anche napoletana. E poi una serie di realtà del mondo green, ma anche università, tipo la Federico II, l'Osservatorio Giovani e anche la Link Campus di Roma. Ed infine le nuove associazioni di start-up innovative, quindi l'associazione Giovani Innovatori e tra gli altri anche questi ragazzi qui che tutte e tre sono stati i fondatori di questo aggregatore di influencer, voi sapete adesso, adesso si chiamano veramente content creator, ho capito da loro, cioè creatori di contenuti, ma in realtà loro aggregano molte 35 mila influencer, arrivano a 80 milioni di follower, quindi hanno fatto un bel lavoro e io li ho convinti perché ognuno che mi vede, io cerco di portare in questa logica dell'attivismo civico a fare delle azioni civiche che credo dopo diremo. Ma il 16 cosa facciamo? La logica è che la rete è piena molto spesso di odiatori, li chiamano haters, o di fake news, notizie false. Il mio progetto è raccogliere e valorizzare le buone azioni, che siano best practice di aziende, imprese, associazioni, che siano anche buone azioni di istituzioni, enti locali, e aiutarli a diffondersi in rete. Cioè noi dobbiamo immettere buone azioni, attività di attivismo civico per evitare che la rete sia preda solo di odiatori, di gente che insulta, di una cosa che non rappresenta veramente la società, che per fortuna è piena di cose buone. Oppure di fake news. Però c'è una data, io prima ho visto la locandina, l'ha mostrata anche la nostra registraggiata De Gregorio, data 2030. Ma che vuol dire? Perché questa anticipazione di data verso un futuro, in realtà un po' prossimo dopo dieci anni, si aspetta il 2020 invece 2020. Perché il simbolo, e non l'ho portato qui però va bene, il simbolo di opera 2030 vede 17 colori. I 17 colori sono i 17 goals delle Nazioni Unite, c'è un'agenda dell'ONU che dice che entro il 2030 si cerca di darsi degli obiettivi. Tra questo ovviamente uno dei più rilevanti è quello sull'ambiente, sul climate change, noi abbiamo visto che il clima sta cambiando molto velocemente. Io per farlo capire agli italiani inizio a dirgli guardate che l'Italia rischia di diventare la Florida del Mediterraneo. Voi ricordate la Florida, come è fatta più o meno? È una penisola sostanzialmente. Si trova in una zona più tropicale dell'Italia, è una zona ricca, è una zona povera degli Stati Uniti, ma è oggetto di uragani, tifoni, di situazioni molto straordinarie. L'Italia è collocata al centro del Mediterraneo che si sta riscaldando di più. Io quando nel 2007 ho fatto come Ministro dell'Ambiente la conferenza sul clima in Italia, la più grande conferenza fatta mai da un governo europeo, abbiamo convolto di 10.000 persone. Non se ne parlava tanto allora? No, io dissi che c'era questo, ma non perché io avevo la palla di cristallo. Sentivo gli scienziati, dicono guardate, dobbiamo fare il piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Dicevano che ero catastrofista. Adesso ci sono le bombe d'acqua, i tifoni. Un precursore dei tempi, insomma. Semplicemente uno che non ha paura di dire quello che può succedere e oggi dobbiamo essere pronti. Però io devo capire che cos'è l'influogramma, Claudio, perché non l'ho ben capito. Sì, no, peraltro ci sono sulla locandina diversi hashtag, quindi abbiamo sentito numeri come 80 milioni, insomma, numeri pazzeschi. Ecco la locandina, vogliamo un po' zaccato spiegare questo fenomeno di content qualcosa, insomma. Sì, allora, noi abbiamo creato una piattaforma che si chiama inflogrammer.com e sarà la più grande community di influencer e content creator del web legato ad oggi ad Instagram. Poi sappiamo che i social network cambiano continuamente, ad oggi sta anche nascendo TikTok, ma quello che noi facciamo è suddividere i content creator, ovvero creatori di contenuti all'interno dei social. Vi ricordate, Facebook è andato tantissimo, che si creano tantissimi post, tante foto, condivisioni. Oggi la comunicazione è più veloce, più snella e difatti tutti quanti utilizzano canali come quelli che sono ad oggi Instagram. E con Instagram abbiamo detto bene, scominciamo a suddividere le persone in base a quanti follower hanno. E quindi andiamo a prendere quelli che sono i nano, i micro, i macro, creator e poi i big influencer. Big influencer tutti quanti conosciamo, Chiara Ferragni ad esempio. E noi li andiamo ad aggregare ma per che cosa? Per far sì che, diciamo che proprio tutte le parti di sensibilizzazione possono essere tramandati attraverso dei post e delle stories che non solo parlano del mio quotidiano, ma anche delle buone azioni che si possono fare all'interno della società. Una sorta di rivoluzione culturale attraverso i social. Esatto. Si sa che in realtà tutti, e i giovani soprattutto, il riferimento e soprattutto loro, tendono a diventare, tra virgolette, dalla Chiara Ferragni della situazione. Quindi si passa sempre per scalette. Cioè cosa si fa per raggiungere un livello altissimo da questo punto di vista e quindi aiutare la comunicazione? Allora, quello che ci occupiamo di fare noi è fare anche della formazione ai content creator, quindi cercare di insegnare loro come comunicare un prodotto, un servizio, nel caso sia appunto un'iniziativa commerciale sulla quale ovviamente si basa l'azienda. Quando poi abbiamo incontrato Alfonso e ci ha sensibilizzato su alcune tematiche, noi abbiamo detto le abbracciamo in pieno e la nostra formazione non va solo sul servizio o sul prodotto delle aziende che ce lo richiedono, ma vogliamo mettere a disposizione di questa causa i nostri influencer, quindi le persone iscritte al nostro portale. Galeone, vorrei chiederle come si fa per cercare di avere tanti followers, però comunicando dei contenuti, perché a volte sa che insomma per riscuotere grande successo bisogna dare e restituire allo spettatore dei contenuti che sono legati al quotidiano, come diceva il suo collega, o comunque dei contenuti così superficiali, tra virgolette. Qua parliamo di restituire invece dei significati, però restando ovviamente in auge dal punto di vista dei followers, ecco c'è una tecnica, può funzionare anche comunicare qualcosa di più profondo attraverso i social network? Assolutamente sì, ci tengo a dire moltissimo che i follower poi non sono la cosa più importante, vediamo tantissime persone che poi vanno a acquistare i follower con i cosiddetti bot, ed è proprio quello che Influgammer non premia assolutamente con il nostro algoritmo. Questo perché noi vogliamo, come diceva Alfonso, content creators, che sono persone che creano contenuti e che sono anche targettizzati. Noi dividiamo i nostri influencer in categorie perché vogliamo che il pubblico di un influencer segua l'influencer non tanto per il numero dei follower, che non rendono quello che la persona è, ma quello che la persona è, è quello che riesce a passare, il messaggio, è l'importanza che poi, che ha il messaggio che poi può anche veicolare queste cose ambientali che sono molto importanti. Intanto Presidente, c'è sinergia, vediamo oggi con i giovani, noi spesso a mattina 9 ci occupiamo dei giovani della nuova generazione, ma secondo lei questa nuova generazione ha veramente una marcia in più e quindi sfatiamo il mito sul fatto che i giovani siano nulla facenti, non vogliono fare nulla, è il contrario. Guarda, io devo dire, io insegno all'università di Milano da oltre dieci anni, insegno turismo sostenibile, insegno a Roma a Tor Vergata, faccio dei corsi adesso anche alla Federico II a Napoli, quindi ho molto a che fare con i ragazzi e anche ingiurie di startup innovative. Allora, secondo me occorre innanzitutto distinguere, ovviamente tutti i giovani sono uguali, ci sono quelli che non hanno molto da trasmettere o tra gli haters ci sono quelli che stanno a casa a lamentarsi, ci sono però una serie di energie positive che io vedo veramente con grande entusiasmo, addirittura io dico che a volte lo vedo dagli occhi, cioè alcuni hanno gli occhi sognanti, cioè ti trasmettono la capacità che stanno pensando qualcosa che vorrebbero fare, vorrebbero realizzare e secondo me questo è importante, per esempio io quando li ho conosciuti e li ho portati anche a parlare con i miei studenti all'università, ho capito che avevano questa voglia, avendo realizzato un'attività commerciale, di pensare anche però di fare qualcosa di buono per la società e quindi gli ho proposto questa prima campagna che è stata sulla plastica, abbiamo inventato questo slogan, less plastic is more life, che in cui hanno lanciato la sfida, ci hanno anche messo 300 mila euro in servizio, hanno offerto ai loro influencer, diciamo così, per fare in modo che con i loro post e le loro storie su Instagram, trasmettessero il segnale di come si può rinunciare alle plastiche monouso e si possono usare queste bottigliette, questa è quella della campagna che io faccio in Mediterraneo da Remare, ne abbiamo fatto una doc che è quella che vedete in mano a Davide, che è qua, loro sono le prime spenze televisie perché sono diffusissimi su web, lei invece ha un'esperienza incredibile perché mi ha rubato la domanda, io le stavo chiedendo se ci fosse del vino o qualcosa di alcolico lì dentro, invece no, no plastic, less plastic more life, less plastic more life e questa è Mediterraneo da Remare, legata al mare, ricordiamoci che in questi giorni finisce oggi c'è la conferenza a Napoli delle Nazioni Unite sul Mediterraneo, questo lo faccio come Fondazione Univerde, opera pure 2030, insieme alla Guardia Costiere a Marevivo, il tentativo è di fare cose buone, sul vino invece tornerò perché facciamo una campagna, bere consapevole col Museo del Vino di Pocca. Sopra una buona pizza, fatta però ad occhi in casa e lì vedo un altro oggettino che si è portato a presto. Ma io come vedi ho un po' di cose da raccontare, allora qua... La prossima volta si siede a posto mio... Sì perché lo ricordiamo che nel fine settimana si terranno appunto le celebrazioni per il secondo anniversario di riconoscimento dell'arte del pizzaleolio come patrimonio unisco, allora ricordiamo che il futuro passa però anche attraverso la nostra bellissima tradizione, qual è la pizza? La puoi aprire quella, non essere timido. Qua abbiamo una che è no fake pizza e un'altra che è la campagna, cioè dentro la campagna è no fake food, noi lanciamo proprio oggi pomeriggio con loro dalla sede dell'Accademia della Pizza Napoletana, Pizza Verace a Capodimonte e poi la rilanciamo domani da Brande e poi la rilancieremo sabato, anzi invitiamo gli ascoltatori che vogliono, sabato ci sarà una messa nella Basilica di Piazza Blebiscito, la Basilica Reale si chiama, di San Francesco di Paolo in cui ho parlato con il parro che era molto contento, faremo una benedizione dei pizzaioli e poi festeggeremo perché il 7 di dicembre del 2017 l'arte della pizza napoletana divenne patrimonio dell'umanità. Sulla base di una petizione, anche lì, io ho la petizione lanciata su change.org, poi siamo riusciti ad arrivare a oltre 2 milioni di firme nel mondo e siamo riusciti a portare l'arte della pizza a patrimonio dell'umanità. Sembra una cosa, era una cosa non scontata perché tutti dicevano la pizza non è una cosa culturale, è una cosa fondamentale perché negli Stati Uniti ti chiedono ancora... Ma adesso è patrimonio dell'UNESCO la pizza, o sbaglio? E perciò è stata questa campagna, siamo riusciti a farla diventare patrimonio dell'UNESCO e soprattutto a far capire che l'arte della pizza è nata a Napoli perché gli americani, le grandi catene mondiali sono americane e in America ti chiedono how do you say pizza? Come dite pizza in italiano? Perché pensano che è una cosa americana. Io però mi fermerei alla pizza perché abbiamo parlato degli influencer della pizza, del no plastic è troppo... No, e questa campagna va detto a cosa servirà, dopo questa less plastic is more free, loro partono con la campagna quelli che indicheranno quali sono i veri prodotti genuini e invece le fake pizza e il fake food, in modo da aiutare a diffondere in rete il mangiare sano e il mangiare bene. Soprattutto nel mondo. E nel mondo, ma anche in Italia, perché a Venezia la pizza la fanno surgelata. È vero. Fare rete, fare rete. Grazie ad Alfonso Pecoraro Scania, presidente della fondazione Univerde, Andrea Zaccato, Marco Rimoldi e Davide Galeone per essere stati con noi in piccolo spazio pubblicitario.